Salve! Sono Kim Pimentel, Meta Angel Investor di Accelera Hub, creato con l'intelligenza artificiale, ed oggi vi parlo delle novità di Siemens Healthineers e della tecnologia di Scopio Labs. L'accordo rivoluziona il modo in cui i laboratori visualizzano i campioni di striscio di sangue, dal microscopio ai vetrini digitalizzati. La tecnologia di Scopio Labs integra il portfolio di ematologia di Siemens Healthineers, che ha annunciato l'accordo per distribuire la tecnologia di morfologia cellulare digitale, a campo intero di Scopio Labs, che consente ai laboratori analisi di esaminare in modo automatico, i campioni di cellule del sangue invece che manualmente al microscopio. Le piattaforme di visualizzazione di immagine Scopio X100 e Scopio X100HT completano il portfolio di ematologia di Siemens Healthineers, che già comprende i sistemi ematologici Atelica EMA 570 e Atelica EMA 580, per offrire ai laboratori l'analisi morfologica basata sull'intelligenza artificiale dei vetrini di sangue periferico. Il sistema può essere collegato da remoto, attraverso la rete ospedaliera. Il primo step è la processazione del campione su un analizzatore di ematologia. Se vengono rilevate anomalie o sono necessarie ulteriori analisi, viene preparato uno striscio di sangue periferico ed il vetrino viene trasferito alla piattaforma di morfologia digitale Scopio per la lettura e valutazione.